Si chiama Tanto Manite, la nuova fatica letteraria di Renato Corodoro. L'opera mette assieme storie semplici che cercano di raccontare il buono e il bello che ci può essere nella vita ordinaria, quella di tutti i giorni, quella del lavoro, della famiglia, degli amici, di una vacanza, di una passeggiata, quella di incontri più o meno casuali in luoghi più o meno usuali. Il volume è stato presentato ieri nella scuola Quasimodo di Gela. Nonostante i ragazzi siano ormai disorientati, attratti da tante cose che li allontanano prima di tutto da loro stessi, non tanto dalla scuola o dagli insegnamenti, ma il problema grosso è che li allontana da loro stessi. Purtroppo i modelli sono quelli che sono, bisogna cercare anche un po' da adulti e prendersi la responsabilità di forzare un po' la mano, di non aver paura di osare. Quindi tante volte si asseconda l'aspettativa del ragazzo o della famiglia per quanto so la difficoltà in cui si incorre, però bisogna usare. Non c'è altra alternativa, magari andando incontro a dispiaceri, però è una cosa di cui bisogna avere cura e premura. A me interessa che qualcuno si senta coinvolto in questo progetto mettendoci del proprio impegno, una propria iniziativa, un'attenzione che purtroppo per la distrazione di cui accennavamo prima viene a mancare e di conseguenza non mi basta ricevere dei complimenti di cui non me ne faccio niente e apprezzamenti che lasciano il tempo che trovano. La manifestazione è stata presentata dal giornalista Domenico Russello, il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Altri giorni avremo anche la presenza a scuola di attori che cercheranno anche di animare la lettura di alcuni testi classici. Però ci tengo a sottolineare il fatto che in realtà noi a scuola promuoviamo la lettura sempre perché per esempio una delle iniziative che da qualche anno ormai quasi fa è quella di leggere il libro del mese, quindi è una cosa che normalmente noi facciamo. Però è importante, così come sottolineava l'autore del libro, educare i ragazzi a sapere osservare, a sapere criticare, a sapere ascoltare perché probabilmente questo è il primo passo per poter costruire qualcosa di nuovo, per poter essere cittadini consapevoli, ovviamente quello in cui tutti noi speriamo. Però per poter raggiungere questo obiettivo è importante che i ragazzi vengono educati all'osservazione, alla critica. E quindi la lettura certamente è uno strumento importante perché i tempi della lettura sono i tempi della riflessione, sono i tempi della consapevolezza.